Negli ultimi anni si è scoperto che nel nostro organismo, nell'intestino e sulla nostra pelle esistono miliardi di batteri. Sono dei batteri buoni e vengono definiti microbiota. Questi batteri ci aiutano a difenderci dai batteri cattivi che possono entrare nel nostro organismo. Riuscire ad aiutare il microbiota e in particolare il dermobiota, cioè l'insieme di quei batteri che vivono e convivono con noi sulla nostra pelle, è molto importante. È per questo che all'Istituto Dermoclinico si è aperto il primo ambulatorio per lo studio del dermobiota. Curare il dermobiota è importante per la maggior parte delle patologie della nostra pelle. Chi è affetto da psoriasi, da acne, da dermatiti allergiche e da molte altre patologie infettive può avere un grande beneficio nell'aiutare il dermatobioma. L'ambulatorio è diretto dal dottor Pignati. Il dottor Pignati ha scritto molti libri su questo argomento, è uno dei più importanti e famosi ricercatori sul dermatobiota e sul microbiota in generale. Sarà lui a visitarvi, sarà lui con tutti gli accertamenti a scoprire cosa è meglio fare per aiutare il vostro microbioma e aiutare quindi a risolvere i vostri problemi di pelle in maniera biologica, naturale ed efficace.